Sto aspettando che si decidano e si mettano a lavorare per Padova, perché inutile dire amo Padova se poi per Padova, oltre al commissariamento di sette mesi che i padovani hanno dovuto subire, oggi stiamo aspettando anche queste lotte intestine tra di loro, insomma che si mettano lì giorno e notte e che risolvano la questione, non si può più perdere tempo. I tempi di formazione della Giunta sono visti dalle opposizioni come il primo segnale di una maggioranza eterogenea che faticherà a prendere decisioni, una maggioranza che comunque, afferma Alan Luciani, durerà per tutta la legislatura. Molti sono i cittadini che mi dicono, ma tranquillo, tanto questi un anno o due anni durano, invece io vedo a Roma cosa sta accadendo, a Roma forze appunto così diverse in realtà governano, quando si parla di careghe, come si dice in Padovano, loro sono più bravi, nel senso che difficilmente si mettono a pregiudizio i loro posti di potere, insomma, e sappiano che hanno però i cittadini comunque qualcuno che sta continuando a lavorare per loro. Resta il fatto che alla Lega si sarebbero preferiti i tempi più rapidi. Sono già al lavoro, io sto già lavorando per i cittadini, sto già accogliendo diverse segnalazioni, se vi ricordate io in quanto assessore al pronto intervento cittadino raccoglievo le segnalazioni dei cittadini, non ho mai smesso di farlo, neanche in campagna elettorale, ho già una lista lunga così, non vedo l'ora che si vada in consiglio comunale e che si inizia a lavorare per la città, perché abbiamo perso anche troppo tempo.